Niente, oggi correvo nelle salite di casa, le salite le conoscevo, peccato che è mancata la vittoria con Rigo e però vabbè, se qua lo sapevo dalla bocca l'ho provato ad attaccare, sono riuscito a staccare tutti i seguitori e vabbè, un piazzamento però sono contento. Prometto bene questo piazzamento e cerchiamo di continuare su questa strada.